Io tu noi, il Piave, è il progetto promosso dalla Regione Veneto e l'autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nelle scuole primarie e secondarie per far conoscere, attraverso incontri e uscite sul campo, il fiume Piave, coinvolti un centinaio di istituti scolastici del Trevigiano e del Veneziano bagnati dal fiume. Vedi i ragazzi non solo conoscere il loro ambiente, ma soprattutto conoscere anche le insidie del fiume Piave, perché come è stato noto alla cronaca abbiamo avuto degli episodi in cui dei ragazzi gettandosi proprio all'interno proprio per fare il bagno non hanno conosciuto, saputo di conoscere poi le insidie che si sono situate all'interno del fiume. Non solo prevenzione ma anche azione attraverso l'educazione al rispetto dell'ambiente. L'iniziativa di Savno che va proprio nella situazione di togliere anche tutti quei rifiuti di persone che naturalmente perché si parla di ambiente naturale, appunto ambiente che lasciamo anche alle future generazioni, ma con un rispetto di chi viene nel portare via i rifiuti e naturalmente non lasciare poi ai comuni in cui rimangono ovviamente tutta questa situazione da dover anche intervenire sotto un profilo ambientale. L'obiettivo del progetto è diffondere consapevolezza tra i giovani attraverso una conoscenza scientifico ambientale del fiume, incentivando così una maggiore coscienza dei benefici derivanti dalla partecipazione delle comunità locali nel monitoraggio ambientale in un'ottica di collaborazione di tutti per il bene della collettività.